E la strada si apre, passa da compasso, più fuori, su questa strada noi, e si spalla a cancello, un mondo che rinasce e si fa vivere dell'unità. Si è concluso anche quest'anno la 39esima edizione del Campo Missionario Diocesano 2019, organizzato dal Centro Missionario della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, in collaborazione con Urukundo Onlus, Pastorale Giovanile Diocesana e i missionari saveriani di Parma. Si è concluso anche quest'anno questo 39esimo Campo di Lavoro e Formazione Missionaria che il Centro Missionario Diocesano ha voluto organizzare. Ecco, il Campo è sempre, anzi vogliamo dire che non è una bella esperienza in modo provocatorio. Il Campo è uno stile di vita che si acquisisce pian piano e che entra a far parte di ognuno di noi. Mettersi in relazione con l'altro, con chi non si conosce, i ragazzi arrivano e non si conoscono tra di loro perché vengono da parrocchie diverse. Busare alle porte delle case non sapendo se e chi si aprirà, se verremo accolti. Ecco, questa davvero è un'esperienza che ci cambia dentro, profondamente nel nostro cuore, che ci fa capire qual è la strada che vogliamo percorrere, quella dell'apertura all'altro, quella dell'incontro con Dio che si fa davvero prossimo ad ognuno di noi. Ecco, questo è un po' il campo di lavoro che ogni anno vogliamo così proporre a tanti giovani perché davvero possano riportare poi nella loro vita, nel quotidiano, nel lavoro, nello studio, a casa, in famiglia, quello che hanno sperimentato, quello che hanno vissuto. Uno stile nuovo, uno stile fatto di attenzione all'altro e soprattutto di attenzione al mondo intero che ormai è alle porte di casa nostra. E allora davvero questo campo è stato una grazia che il Signore ha voluto concedere ai ragazzi che hanno partecipato, alle parrocchie che hanno accolto e a tutta la diocesi per dire sì, vogliamo ancora aprire le porte del nostro cuore, vogliamo aprirci alla dimensione missionaria. E mi sento di dire anche un grazie davvero a tutti coloro che hanno lavorato perché questo campo si potesse svolgere nel migliore dei modi e nella massima tranquillità e sicurezza, a tutti gli animatori, a tutte le parrocchie con i tanti volontari che si sono adoperati per ospitarci, per darci da mangiare, per organizzare la raccolta, a chi ci ha fornito anche il supporto logistico, penso a coloro che ci hanno prestato i pulmini e a tutti coloro davvero che in tanti modi hanno fatto sì che questa esperienza, anzi questo stile di vita, potesse iniziare a diventare anche il nostro stile di vita. Grazie veramente di cuore a tutti. Allora sono quasi 40 anni che come ufficio missionario organizziamo questo campo ed è un campo che in realtà è un piccolo miracolo perché è un campo molto difficile da organizzare, che richiede tantissimo impegno da parte degli animatori, da parte dei direttori e ogni anno questo piccolo miracolo da quasi 40 anni si realizza. Noi ci crediamo e crediamo che sia un'esperienza molto bella, molto forte per i ragazzi e anche molto importante per la nostra diocesi perché ci dà la possibilità di dare un respiro missionario alla nostra realtà di chiesa locale e quindi ci crediamo perché riusciamo tramite questa breve settimana molto intensa a far sentire questo respiro di missionarietà, di mondialità ai ragazzi che magari vivono nelle nostre zone e a dargli un po' questa apertura, questo segno di chiesa aperta verso il mondo con le testimonianze dei missionari, con i progetti e con la stessa presenza dei ragazzi che si rendono missionari andando a visitare le parrocchie, andando la mattina a raccogliere degli alimenti che poi vengono utilizzati per fare del bene per le persone che non ne hanno e durante questa raccolta incontrano le persone, sono missionari anche in questo e poi si formano grazie ai saveriani che ci hanno aiutato anche quest'anno e poi si fa festa e tutto questo è un bel segno, un bel esempio di missionarietà nella nostra terra. Ovviamente come ufficio missionario non solo campo, il campo è un punto centrale, è un punto molto forte ma non siamo solo il campo missionario, ovviamente seguiamo i progetti e seguiamo i progetti in terra di missione e anche diamo la possibilità alle persone di partire, di andare a conoscere personalmente queste realtà missionarie lontane. Abbiamo le nostre realtà, i nostri contatti soprattutto con il Burundi, con il Kenny in questo momento ci saranno dei ragazzi in partenza che partiranno proprio a breve tra una decina di giorni altri gruppi poi si uniranno a settembre e quindi cerchiamo anche di dare concretamente la possibilità di andare a vivere per esperienze brevi di un mese, un mese e mezzo la missione, la chiesa missionaria in terra lontana, in terra di missione. Un gruppo di 60 giovani provenienti dalle parrocchie della diocesi guidati dagli animatori e dai missionari saveriani hanno vissuto dal 14 al 20 luglio scorso un'esperienza ecclesiale di fede, essenzialità e condivisione con l'altro. Anche quest'anno ho avuto l'opportunità di accompagnare il campo missionario di Ocesano insieme ad altri due confratelli, Pietro Rossini, originario di Salerno e Renovà Bicorimana, originario del Burundi. È già da qualche anno che collaboriamo con il centro missionario di Fano e siamo contenti di farlo. Noi veniamo da Parma, è lì dove è così, siamo presenti come comunità e dove viviamo come comunità in questo momento. Il tema scelto quest'anno per i nostri momenti di formazione con questi giovani è stato quello del primo passo, infatti il tema è appunto Fai il primo passo e ogni giorno c'era un aspetto particolare che veniva un po' sviluppato attraverso il testo biblico, attraverso l'ascolto di testimonianze, attraverso momenti di silenzio, di riflessione, attraverso dinamiche di gruppo e di confronto tra i diversi giovani che li aiutasse un po' alla fine a ciascuno di loro a capire qual era il primo passo che erano chiamati a fare nella loro vita. Così siamo partiti dal fatto che Dio è colui che ha fatto il primo passo venendo verso di noi nella storia della salvezza, donandoci il suo figlio e mandandoci, inviandoci ciascuno di noi. Da quello poi abbiamo visto che il primo passo di Dio ci porta a fare il primo passo verso chi è più vicino a noi ed è stata molto significativa l'esperienza fatta ascoltando la testimonianza di alcune famiglie del luogo, quindi ci hanno testimoniato il loro essere famiglia in modo allargato, nell'accoglienza anche degli ultimi, nell'accoglienza di persone che la società scarta, che la società non vuole. Dopo il primo passo verso i vicini, il seguente passo è stato quello del passo verso i lontani, lontani geograficamente da una parte, quindi con l'ascolto di testimonianze missionarie di persone che hanno lavorato in paesi diversi dai loro d'origine, ma anche l'esperienza della lontananza di realtà con le quali questi giovani normalmente non si confrontano o che non fanno parte della loro vita quotidiana, come per esempio la visita a centri di accoglienza di migranti, la visita a casa e famiglia, la visita a persone anziane, eccetera. Quindi questo è un primo passo verso il lontano, geograficamente ma anche così esistenzialmente. Poi abbiamo ricevuto, abbiamo fatto il primo passo verso il perdono di Dio, un Dio che ci perdona e abbiamo dato ai giovani l'opportunità di potersi riconciliare attraverso il sacramento della confessione e abbiamo terminato ieri con il tema di Maria come con lei che ha fatto il primo passo e così, usando una frase di Papa Francesco che l'ha definita la influencer di Dio, cioè con lei che si è fatta influenzare da Dio nelle scelte, nell'organizzare la sua vita e abbiamo preso lei come modello, come punto di riferimento nel nostro cammino. Oggi l'Eucaristia conclusiva è stata l'opportunità per invitare ogni giovane a condividere con tutto il gruppo il loro impegno, il loro primo passo che si sono sentiti chiamati a fare e a dare dopo aver ascoltato tante testimonianze dopo i vari momenti di riflessione, dopo i diversi momenti di condivisione. Speriamo che questa esperienza non sia così una parentesi nella vita di questi ragazzi ma alla fine possono tornare nelle loro realtà normali, quotidiane, nelle loro famiglie, tra i loro amici, nelle loro parrocchie portando soprattutto magari verso i loro amici, verso i loro coetanei ciò che hanno sperimentato, ciò che hanno vissuto in questa settimana. Filo rosso di ogni giornata della settimana sono i tre momenti la raccolta di generi alimentari per le caritas parrocchiali al mattino, la formazione missionaria nel pomeriggio e la festa serale nella parrocchia che ha accolto i giovani. Domenica 14 luglio ci siamo incontrati con tutti i ragazzi che hanno aderito al partecipare a questo campo qui a Villa Bassa del Prelato e lunedì siamo partiti con i pulmini per raggiungere la prima tappa, ovvero Isola di Fano. Poi martedì appunto siamo stati a Villanova e Montemaggiore dove ci hanno accolto tutti i parrocchiani e mercoledì invece siamo stati a San Lorenzo e i ragazzi hanno vissuto la prima mattinata della giornata in un modo diverso nel senso che abbiamo voluto fargli provare delle attività e delle esperienze che fossero coerenti con il tema di quella giornata ovvero il passo verso il lontano. Dunque i ragazzi sono stati divisi per pulmini e sono andati nelle case di riposo, nelle case famiglie, nei centri d'accoglienza per minori immigrati. Questa esperienza a loro è piaciuta tantissimo. Dopo il giovedì invece ci siamo dedicati alle confessioni e a un momento di deserto ed eravamo a Fano 2. Il momento di deserto e le confessioni sono state fatte al Pincio dove i ragazzi hanno potuto appunto riflettere sul tema di questo campo. Successivamente venerdì siamo stati accolti invece dalla parrocchia della Sassonia, ovvero San Marco e dalla parrocchia del porto Santa Rita. A San Marco c'è stata una bellissima testimonianza che è piaciuta molto ai ragazzi e gli ha toccato nel profondo del cuore ovvero la testimonianza su Chiara Corbella fatta da suor Maria Stella proveniente dalle suore di Assisi quindi è venuta direttamente da Assisi per farci questo regalo. E niente, oggi concludiamo qui a Villa Vassa il Prelato con la messa e con un pranzo tutti assieme. Che dire, per fare un bilancio generale possiamo dire che è stato veramente un bel campo. Siamo partiti e abbiamo visto che i ragazzi inizialmente erano un po' timidi facevano a volte un po' difficoltà a mischiarsi tra le varie parrocchie ma dopo il primo giorno si è creato subito un bel clima. La nostra paura da direttori era quella di non riuscire a trasmettere quello che i nostri animatori e direttori ci avevano trasmesso cioè questo clima di unione reciproca. Un'altra paura che avevamo è quello che avessimo faticato molto per non riuscire a fare qualcosa di veramente bello per i ragazzi ma sentendo anche attraverso la veglia di ieri sera le varie parole dei ragazzi siamo riusciti a capire che è stato un campo veramente ben riuscito perché i ragazzi hanno espresso delle emozioni molto belle sia in merito alla formazione sia in merito al gruppo che si è venuto a formare Il campo missionario si è concluso sabato 20 luglio presso la Villa Bassa del Prelato di Fano con il mandato missionario dove ogni giovane tornando nella propria casa e nella propria comunità è stato invitato a fare il primo passo ogni giorno e a portarsi nel cuore la gioia del Vangelo e della missione perché il campo inizia quando finisce Il campo inizia quando finisce perché i ragazzi sono chiamati a parlarne e a fare attività proprio nelle parrocchie infatti durante la messa abbiamo voluto grazie ai saveriani fare un piccolo gesto indicare il primo passo che avrebbero fatto i ragazzi usciti da questo campo questo sarà appunto il primo passo che i ragazzi si sono imposti di fare ma che secondo noi sarà il primo passo di altri proprio per creare una comunità più ampia e raccontare questa esperienza a tutti Ma che cosa ne pensano i ragazzi di questa settimana trascorsa il campo missionario ecco i loro pareri Per me questo campo è stato un'esperienza bellissima come ormai lo è da tre anni non solo perché conosco sempre gente nuova è una cosa fantastica infatti sono l'unica che viene dalla mia parrocchia con un mio amico ma è ancora più bello non avere nessuno perché così non si è legato al tuo gruppetto e la formazione è stata particolarmente toccante per me perché mi ha messo in discussione ho capito che non devo dare nulla per scontato e quanto siamo fortunati noi soprattutto vedendo la realtà delle case famiglia e le varie esperienze poi ecco delle coppie che ci hanno parlato lo stesso mi hanno fatto capire che con tanta forza di volontà si può arrivare dappertutto la raccolta è sempre un momento comunque in cui ricevi porte in faccia e gente poi gentile anche se ce n'è poca ma forma tutto e poi in gruppo insieme è tutto più bello ci si fa forza vicenda questo campo è stato veramente meraviglioso come anche quello dell'anno scorso nel mio caso è il secondo anno che vengo e è sempre bello è sempre bellissimo perché si ha veramente l'occasione di instaurare dinamiche relazioni con persone nuove e rafforzare quelle relazioni vecchie che vengono magari da campi passati o amicizie differenti e in generale io lo consiglio veramente vivamente a qualsiasi persona sia anche un minimo interessato a partecipare perché all'interno del campo si crea davvero una sorta di microcosmo all'interno del quale le dinamiche esterne discussioni, litigi, problemi vengono veramente meno e si è completamente immersi in questa dimensione che ti stravolge, ti coinvolge sotto qualsiasi punto di vista anche se la formazione, la raccolta la formazione in particolare per quanto mi riguarda quest'anno è stata veramente molto stimolante perché ha toccato dei punti che spesso magari noi diamo per scontati e personalmente mi ha dato la possibilità di sottolineare ancora una volta e di aggiungere consapevolezza del fatto che la diversità comunque tra tutti è un bene e va valorizzata va rispettata all'interno della vita di tutti i giorni questo è il mio primo campo missionario e ho deciso di venire qui un po' per mettermi in gioco per mettere in gioco me stesso comunque perché qui si vive in modo molto semplice e mi sono trovato fin dall'inizio bene sia con le persone con lo staff e anche se ci sono stati dei momenti magari un pochino più difficili siamo comunque tutti insieme siamo riusciti a mettere su una sorta di famiglia e andare avanti insieme e divertirci soprattutto tanto perché alla fine anche alla base di questo progetto questo percorso che facciamo uno dei momenti più belli era quando venivano a fare le testimonianze persone comunque che vivevano situazioni a noi lontane persone che avevano fatto il primo passo verso diciamo casi particolari e come ad esempio persone che sono trovate ad adottare ragazzi con problemi, con disabilità alle volte anche molto gravi e comunque essendo lontano da queste realtà ha fatto molto effetto a me anche a tutti penso per avere qualsiasi informazione sul campo missionario diocesano della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola è possibile visitare il sito online all'indirizzo www.ildiso.it 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 Grazie.